Ciao ragazzi sono Max e oggi è il 27 settembre data importante questo video lo voglio dedicare a una persona vabbè ma cosa ne parlo a fare tanto leggete il titolo sopra eh si si tratta proprio di lui del mito di Luke4316 oggi sono 5 anni che è su youtube la sua carriera ragazzi è qualcosa di impressionante su di lui ci sarebbero tantissime cose da dire tante tante ci potrei scrivere addirittura un libro ma forse anche più di uno comunque volevo volevo prendere questa occasione al volo e dedicargli questo video è vero io non sono niente sono appena arrivato non penso nemmeno che riuscirà a vedere questo video non penso proprio però io glielo dico lo stesso Luke grazie grazie e ancora grazie grazie a te e grazie a te se sono qua su youtube scusa se sono un po impacciato ma un po sono le prime volte poi sai pensare che tu possa vedere questo video anche se alla lontana mi rende un po nervoso comunque dicevo grazie a te sono nato qua su youtube prima non avevo si sono appassionato di giochi ma non pensavo di aprire un canale poi invece tu mi hai dato la forza insieme ad altri youtuber non posso dirti il nome perché non vorrei fare spam e niente Luke ti ringrazio grazie a te sto andando avanti grazie grazie a te sto migliorando e mi dispiace per l'11 settembre perché parliamoci chiaramente io volevo venire al tuo reggono però purtroppo i programmi delle SS me l'hanno impedito le SS sono soldi e salute purtroppo queste due cose sono molto carente forse me la capicchio nei videogiochi ma in queste due cose sono carente e che dirti Luke grazie a te sei aperto un modo nuovo ai miei occhi è vero ci sono stati veramente tanti problemi eh da quando ti ho conosciuto perché ho avuto veramente tantissimi problemi però di una cosa ne sono felice sono felice di essere un tuo fan e di essere qua a dedicarti questo video ti ripeto ripeto ragazzi non so se lo vedrà se vi potrà piacere o se vi farà completamente schifo non lo so comunque non posso aggiungere altro ragazzi se no farei un discorso di ore e ore e purtroppo il tempo non me lo consente è già ora tarda questo video verrà caricato al più presto non so se stasera stessa o l'orino domani quindi grazie figri continua così i tuoi video mi fanno molto piacere da max è tutto porca migliaia non ti vede la mano da max è tutto ciao a tutti ciao Luke mac Alan už 그림ule due tua un